Il Natale di Gesù è l'occasione ogni anno per tornare con la memoria del cuore a quell'evento centrale nel mistero della fede che tutti noi cristiani cattolici professiamo. Il momento in cui il Figlio di Dio, fatto uomo nel grembo della Vergine Maria, viene alla luce di questo mondo e porta a questo mondo la luce che è lui stesso. E quindi tutte le comunità cristiane, dunque anche la nostra, qui la parrocchia Madonna della Milice, il santuario Mariano Diocesano, ci prepariamo per questa occasione e quest'anno come sempre avremo la novena che precede il giorno di Natale, che inizierà giorno 16, come in tutte le parrocchie della Diocesi. E in modo particolare abbiamo voluto preparare questo appuntamento con un'attenzione, come ci invita a fare Papa Francesco in diverse occasioni, con un'attenzione precisa. Abbiamo pensato di vivere l'avvento di carità con un occhio all'altra riva dell'Adriatico. Come sappiamo, nelle settimane scorse uno sciame sismico ha colpito quella terra e dalle diocesi cattoliche che sono in Albania è arrivata la richiesta di aiuto. E grazie a Dio da tutta l'Italia si sono mossi, anche noi come parrocchia abbiamo voluto fare questa scelta e dedicare l'avvento a un'iniziativa che ci porterà a dare il nostro contributo e a sostenere la ricostruzione di chiese, scuole, di centri parrocchiali e in modo particolare nella diocesi di Legia, dove si trova Monsignor Ottavio Vitale, un mio vecchio compagno di studi quando eravamo a Roma. E quindi ci siamo sentiti e abbiamo preso questa decisione con la comunità.